Il dibattito su eventi e piani di sicurezza c'è il tentativo di mediazione tra sindaci e questura da parte del prefetto di Agrigento Romano che in un'intervista dice possiamo parlarne anche nei comitati per l'ordine e la sicurezza. Lunedì l'autopsia sul corpicino di Joelle Palminteri, il bambino di 4 anni di Menfi deceduto all'ospedale di Cristina di Palermo, subito dopo la salma, sarà restituita ai familiari per le esequie in una giornata di lutto cittadino. Continua l'inchiesta della procura di Agrigento nei confronti dei responsabili degli atti di pirateria ai danni dei natanti che trasportano migranti, arrestati i sei componenti di un equipaggio di un motopesca tunisino. Sciacca, ceramiche d'autore, tour e visite guidate da ieri e fino a domani sera lungo 19 botteghe del Centro Storico con dimostrazione per turisti e cittadini saccensi, obiettivo dell'iniziativa la valorizzazione del comparto. Nuovo parroco a San Calogero, ieri la prima celebrazione alla presenza dell'Arcivescovo Damiano per Fra Giuseppe e Maria Gentile del terzo ordine regolare, padre Tutino rimarrà in Basilica in qualità di superiore del convegno. Calcio presentata ieri sera alla Chiazza, la nuova rosa dell'Unitas Sciacca composta ad oggi da 27 calciatori, compresi alcuni giovani della Juniores, presenti circa 500 tifosi rivelando che c'è grande fiducia. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telemonte Cronio. Continua a essere ancora sotto i riflettori il tema dei piani di sicurezza degli eventi pubblici. Il prefetto di Agrigento Filippo Romano in un'intervista si è messo a disposizione dei sindaci e ha avanzato l'ipotesi di lavoro di comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica per agevolare le cose. A più di qualcuno sembra evidente come l'esponente di governo stia tentando una mediazione tra comuni e questure. Vediamo il servizio di Massimo D'Antoni. Dopo la tragedia di Piazza San Carlo a Torino e il Covid si è acuito in generale il livello di attenzione per la sicurezza. È chiaro che la sicurezza totale non esiste, esiste però la riduzione del rischio. Sono queste le parole pronunciate dal prefetto di Agrigento Filippo Romano all'interno di un'intervista da lui rilasciata al collega Giuseppe Pantano e pubblicata da Risoluto.it. Un intervento, quello dell'esponente del governo in provincia, che si inserisce a pieno titolo nel dibattito in corso a Sciacca dopo le recenti vicende che in successione hanno registrato difficoltà e perfino qualche tensione tra amministrazione comunale e commissariato di polizia rispetto alla questione di quei piani di sicurezza, dal carnevale in poi, che stando a quanto si apprende hanno messo a rischio perfino l'ok alla processione della Madonna del Soccorso. Sono sembrate chiare in tale direzione alcune delle affermazioni fatte dallo stesso arciprete dal balcone della Casa Museo Scaglione prima che la vara rientrasse in Basilica. Fabio Termine, dal canto suo, ha già chiesto al prefetto di essere ricevuto, ritiene evidentemente il sindaco che sia arrivato il momento di individuare un punto di mediazione all'interno di interlocuzioni che si sono rivelati oggettivamente difficili e che evidentemente si sono trasformate anche in argomento di scontro politico con l'opposizione che più o meno esplicitamente ritiene che un sindaco più autorevole riuscirebbe a superare i problemi sollevati dalla Polizia di Stato e con la coalizione che sostiene l'amministrazione che di contro ha replicato parlando di sciacallaggio politico. In Sicilia le autorizzazioni per gli eventi le danno le forze di polizia, nel resto d'Italia le danno i sindaci, ha chiarito il prefetto, il quale ha poi ricordato che le documentazioni necessarie affinché i piani di sicurezza vengano approvati vanno date il più possibile in anticipo. Ma ha anche aggiunto Filippo Romano che quando manca questa tempestività questo fatto non significa che la colpa sia dei sindaci. Gli organizzatori spesso si dividono su moltissimi eventi estivi e quindi corrono e purtroppo, ha aggiunto il prefetto, questa cultura della sicurezza ancora sta scontando un certo ritardo, bisogna tenerne conto ma con la moderazione che il nostro dovere ci impone. Ma io sono a disposizione dei sindaci, ha detto Romano, che ha formulato un'ipotesi di lavoro specifica, ovvero sia che per alcuni singoli eventi si possa riunire, per discuterne serenamente queste le sue testuali parole, il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, per poi spostare la questione sui rapporti tra i sindaci e la questura. Dichiarazioni quelle del prefetto Romano che dall'invito alla moderazione ad una disponibilità offerta ai sindaci assumono indubbiamente un certo significato, una disponibilità che soprattutto in questa fase, forse e senza voler forzare alcun concetto espresso, appare oggettivamente interpretabile come un elemento aggiuntivo al dovere d'ufficio di un prefetto. Gli eventi in generale sono pericolosi, va riconosciuto che, alla luce delle ultime misure di sicurezza, in qualche caso blindate, difficilmente a Sciac si sarebbe verificata la tragedia di Militello dove un tubo, spara coriandoli durante la festa del patrono, ha ucciso un 65enne e ferito gravemente la moglie. È da ribadire anche, però, che lo spettacolo musicale del Bilboa Vertical Tour di Radio DJ alla Foggia è stato interrotto non per mancanza di sicurezza dell'evento, perché quelle autorizzazioni c'erano tutte, ma solo perché mancava un certificato che autorizzasse la diffusione della musica in spiaggia. Una questione che forse si sostiene da diverse parti, poteva essere sanzionata con una multa. Il tema è caldo, sicuramente si continuerà a parlarne. L'intervista del prefetto Marino sembra un invito piuttosto inequivocabile ad abbassare i toni e l'impegno di intervenire per partecipare all'individuazione di tutte le soluzioni possibili, perché l'organizzazione di un evento, una città come Sciacca ne ha bisogno come il pane, non si trasformi tutte le volte in un incubo. Sarà eseguita lunedì prossimo l'autopsia sul corpicino di Gioele Palmenteri, il bimbo di 4 anni di Menfi, deceduto all'ospedale dei bambini di Cristina di Palermo. I genitori del piccolo, assistiti dall'avvocato Luigi Laplaca, hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica per capire le ragioni per le quali è avvenuta la morte del loro bimbo. L'avvocato Laplaca è il legale di fiducia della famiglia che si avvarrà anche di un consulente tecnico di parte che assisterà all'autopsia. Il comune di Menfi, come già annunciato dal sindaco Vito Clemente, proclamerà il lutto cittadino per il giorno dei funerali che saranno celebrati non appena la salma del bambino sarà restituita ai familiari. Cambiamo argomento, arrestati a Lampedusa il comandante di un motopesca tunisino e gli altri cinque membri dell'equipaggio sono ritenuti responsabili in concorso del reato di pirateria marittima. Avrebbero depredato numerosi barchini con a bordo migranti minacciandoli di lasciarli alla deriva. L'arresto, che risale al 14 agosto scorso, è avvenuto a conclusione di un'articolata attività d'indagine eseguita da Polizia, Guardia di Finanza e Ufficio Circondariale Marittimo sotto le direttive della Procura della Repubblica di Agrigento. Sentiamo. A seguito di un'articolata attività investigativa svolta sull'isola di Lampedusa sotto le direttive della Procura della Repubblica di Agrigento guidata dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella. La Polizia di Agrigento insieme alla Guardia di Finanza e la Guardia Costiera di Lampedusa hanno eseguito il 14 agosto scorso il fermo del comandante di un motopesca tunisino e degli altri cinque membri dell'equipaggio, oltre al sequestro del natante. Sono tutti ritenuti responsabili in concorso del reato di pirateria marittima previsto dal codice della navigazione. Le indagini hanno permesso di accertare che i pescatori tunisini depredavano in numerosi barchini sulla rotta Sfax-Lampedusa, con a bordo per la maggior parte migranti sud-sahariani, minacciando gli stessi di lasciarli alla deriva. Quanto dichiarato dalle vittime, coerentemente con le pregresse e investigazioni in tema di pirateria marittima, ripropone le tristi vicissitudini dei migranti, i quali a bordo di fatiscenti natanti in ferro, in precarie condizioni di stabilità, intercettati in acqua internazionali, vengono costretti, sotto la minaccia di essere lasciati alla deriva, a consegnare i loro averi e i motori delle loro imbarcazioni agli equipaggi dei pescherecci tunisini. Lo scorso mese di luglio è stato contestato per la prima volta il reato di pirateria marittima, contemplato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La squadra mobile di Agrigento, la sezione operativa navale della Guardia di Finanza e militari della Guardia Costiera di Lampedusa, avevano eseguito in quella occasione il fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti del comandante di un motopesca tunisino e dei tre componenti dell'equipaggio che avevano preteso dai migranti in acqua internazionali la consegna del motore dell'imbarcazione sulla quale viaggiavano in cambio del loro aiuto per raggiungere le coste italiane. La recente attività di indagine è stata condivisa dalla competente autorità giudiziaria, la quale ha chiesto la convalida del fermo di indiziato di delitto a carico dei sei indagati, convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Agrigento Stefano Zammuto, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Le indagini sono ancora in corso per accertare in via definitiva le responsabilità penali dei soggetti gravati da misura cautelare. Contrasto al lavoro nero e alle irregolarità nella conservazione dei prodotti alimentari. Carabinieri dei reparti specializzati dell'arma, ossia il nucleo antisofisticazione e il nucleo espettorato del lavoro in azione anche durante le festività di ferragosto. Nel Trapanese, su un totale di 11 aziende e 78 lavoratori controllati, sono state denunciate 8 persone. All'interno delle aziende sono stati rintracciati complessivamente sei lavoratori in nero, alcuni impiegati in due strutture di Castellammare del Golfo. Nei confronti di quattro aziende è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di sicurezza e per aver occupato in nero oltre il 10% dei lavoratori con relative sanzioni. I carabinieri del NAS invece hanno denunciato la legale rappresentante di una struttura sita a Erice e Casa Santa, poiché avevano adibito un semiterrato al locale di lavoro e deposito alimenti senza procedere all'aggiornamento della registrazione sanitaria, combinata inoltre una sanzione di 1.000 euro. I carabinieri di Mazzara del Vallo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Egregento un uomo di 38 anni per aver violato le prescrizioni imposte dal giudice. Il provvedimento scaturisce dalle reiterate violazioni commesse dall'uomo che all'interno di una comunità di recupero, secondo i carabinieri, si sarebbe reso responsabile in diverse occasioni di condotte minacciose e pericolose nei confronti dei dipendenti e degli altri ospiti della struttura. Il 38enne era in comunità per i reati di minacce, percosse e atti persecutori commessi lo scorso anno ai danni della madre. Terminate le formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso il carcere di Trapani. Voltiamo pagina, sta riscuotendo interesse la rassegna Sciacca Ceramiche d'Autore con la possibilità per visitatori e cittadini di assistere al lavoro dei maestri ceramisti saccensi attraverso tour e visite guidate. Ieri sera la manifestazione si è aperta con un seminario sulla ceramica tra tradizione e contemporaneità. Vediamo il servizio. E' iniziato ieri sera Sciacca Ceramiche d'Autore, l'evento di tre giorni organizzato dall'amministrazione comunale che è riuscita ad intercettare un finanziamento della regione siciliana in collaborazione con la Proloco Sciacca Terme. In programma fino a domani sera tutte le sere tra le 21 e le 23.30 tour guidati con guide turistiche tra 19 laboratori di ceramica tra le vie del centro storico. Una iniziativa che permette ai partecipanti, visitatori ma anche cittadini saccensi, di apprezzare la maestria degli artigiani nostrani che hanno confermato la bellezza e la tradizione della millenaria arte ceramica di Sciacca. L'iniziativa ieri sera è stata anticipata da un talk show seminario che si è svolto all'interno dell'atrio superiore del Palazzo Municipale con gli assessori Francesco Di Mino e Agnese Sinagra, l'ambasciatore dell'Associazione Italiana Città della Ceramica Salvatore Mandracchia e il vicepresidente di AICC Francesco Re, che è anche sindaco di Santo Stefano di Camastra nel Messinese, il quale durante il suo intervento, ricordando numeri importanti per la produzione ceramica italiana, non ha nascosto la sua preoccupazione per il pericolo che quest'arte non riesca a tramandarsi. Una realtà importante che in Italia ormai si avvia verso un fatturato vicino ai 7 miliardi di euro, che ha una capacità occupazionale di primaria importanza nel mondo della ceramica artigianale, ci lavorano circa 7.800 addetti, anche in Sicilia c'è una buona proiezione, le città riconosciute come città che hanno i requisiti per far parte dell'Associazione Italiana Città della Ceramica sono diventate sei, abbiamo una presenza sul territorio regionale che si avvia verso le 300 botteghe artigiane, bisogna far restituire ai nostri ragazzi quel gap di conoscenza che le riforme in fauste dalla Germini in avanti che sono state realizzate hanno sottratto. Non si può pensare che un liceo artistico o una scuola regionale d'arte per la ceramica sia una scuola o un liceo uguale a tante altre, hanno delle connotazioni particolari, le attività laboratoriali in questo in realtà vanno particolarmente spinte, particolarmente saltate, sono poi quelle che servono a far sì che uno studente possa diventare artigiano e possa diventare ceramista nel tempo. Perché se continuiamo così, questi maestri hanno un'età media intorno ai 60 anni, 65 anni. Se non attiviamo politiche di ricambio, se non rendiamo la ceramica anche un fatto, al di là del culturale lo è, ma anche un fatto reale e economico, secondo me noi non avremo problemi di consapevolezza, ma avremo problemi dell'esistenza di un settore che va tutelato il difeso. Stasera e domani nuovamente laboratori di ceramica al lavoro. I 19 bottegai saccensi realizzeranno dei vasi che poi saranno donate al comune di Sciacca per collocarli nelle vie del centro storico per arricchire l'arredo urbano presente. Il nostro principio è quello di creare un primo nucleo espositivo en plein air all'aperto, in maniera tale che non ci sia soltanto un elemento di arredo urbano, ma ci sia anche un elemento di narrazione che va dall'artigianato dell'oggetto fino appunto al messaggio che l'oggetto stesso poi esprime verso chi lo guarda. I pellegrini artistici e culturali possono vedere tutte queste serrealità diverse, che sono serrealità uniche nel loro genere, però tutte collegate con la ceramica. Quindi capire come riuscire a fare ciò e capire come intercettare una nuova tipologia di turismo, una nuova nicchia di turismo che attualmente comunque non è ben regolamentata. Perché pensare a un tour che parte da Collesano, parte da Santo Stefano di Camasso, Monreale, Sciacca, Burgio e arriva a Carte Girone, sarebbe qualcosa che unisce realmente questa sicilità e città. Momenti di spettacolo sono stati inseriti all'interno dell'evento. Ieri sera in piazza Cabaret con Lupetto, stasera concerto del gruppo di canto popolare Favarese, domani spettacolo con artisti di strada, incantesime e teatro circo per bambini. Il talk show su ceramica di Sciacca tra tradizione e contemporaneità moderato da Massimo D'Antoni andrà in onda sulla nostra emittente stasera alle 20.15, domani alle 13 e lunedì alle 15.15. Ci fermiamo per una pausa, torniamo dopo. Nuovo parroco presso la Basilica di San Calogero al Monte di Sciacca. Si tratta di Fra Giuseppe Maria Gentile del Terzo Ordine Regolare. Padre Giuseppe Tutino resterà ugualmente in Basilica in qualità di superiore del convento. Attraverso questa nomina il Tor intende rilanciare le attività pastorali e parrocchiali del santuario, mentre Fra Giuseppe Gentile auspica una riorganizzazione della Basilica, nuove vocazioni e il ritorno dei frati brasiliani di San Calogero. Il servizio è Fra Giuseppe Gentile del Terzo Ordine Regolare il nuovo parroco della Basilica di San Calogero al Monte. Ieri sera si è tenuto l'insediamento ufficiale nell'ambito di una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano e preceduta da una breve processione che si è svolta tra le vie adiacenti al santuario. Fra Giuseppe Gentile, originario di Misilmeri, arriva da Corleone dove ha operato nel corso degli ultimi 23 anni e subentra a Fra Giuseppe Tutino che comunque resterà in Basilica in qualità di superiore del convento. Ieri sera a San Calogero infatti, oltre ai numerosi fedeli e parrocchiani, si è registrata la presenza di una folta delegazione proveniente proprio dal piccolo centro palermitano. Fra Giuseppe Gentile, ai nostri microfoni, conferma di voler rilanciare la Basilica e il convento e di voler procedere ad una riorganizzazione delle attività parrocchiali. Il primo obiettivo è un abbraccio fraterno alla città e la gioia di poter far sì che questa bellissima esperienza che inizia oggi possa diventare un dono per tutti perché penso che Monte Cronio non è solo Monte Cronio ma è anche San Calogero e tutto quello che ruota attorno a San Calogero. L'obiettivo più bello sarà quello di dare vita a questo spazio che mi sembra non sia ben attenzionato. Il terzo ordine regolare quindi conferma il proprio impegno anche per quanto riguarda San Calogero? Sì, continuiamo ad essere presenza, continuiamo ad essere attenti a questo spazio di santità e vorremmo tantissimo che da questo monte possa arrivare ai giovani in modo particolare l'esperienza di una vocazione che può sempre riprendere e abbiamo bisogno di frati. Ci sarà anche modo per riorganizzare l'assetto della parrocchia? Beh, questo sì. Vedremo quali saranno i punti da attenzionare. Ho notato che ci sono dei validissimi operatori pastorali con i quali sicuramente faremo progetti che prima di tutto vogliono mettere in evidenza la prima l'esperienza della spiritualità di questo sacro monte e la seconda una chiesa umana. C'è l'auspicio anche da parte sua che magari in futuro possano tornare i fratelli di San Calogero l'ultimo è scomparso qualche anno fa? Me lo auguro, ma questo è sempre nell'intendimento di tutti e sicuramente non possiamo non fare a meno di queste belle figure che io ho avuto la gioia di conoscere. sono tornato qui dopo 25 anni e 25 anni fa c'erano quattro frati. La prima idea, la prima sensazione che ha avuto quando è arrivato qua? di grande spazio, di grande felicità, di ampie vedute che ci offre questa visione meravigliosa di un panorama così e che quindi ti proietta verso spazi meravigliosi. Le posso chiedere un'ultima cosa, qua il convento è enorme, ci sono tantissime stanze purtroppo vuote da tanto tempo c'è un'idea magari di rimetterlo in moto? Io mi auguro di sì, ovviamente abbiamo bisogno di tempo, ripeto, questo tempo sarà necessario per valutare tante cose sicuramente saranno spazi che, come dicevo poc'anzi, saranno destinate alla vita spirituale prima di tutto e poi perché no alla formazione. Bisogna pregare per le vocazioni, così al nostro telegiornale l'Arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano il seminario di Agrigento tra qualche settimana riaprirà i battenti con una decina di ospiti ma confidiamo che il Signore operi il proprio discernimento su altri ragazzi. Il servizio. Calo delle vocazioni e chiese sempre più vuote. Ne abbiamo parlato con l'Arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano presente ieri sera a Sciacca. Un fenomeno in atto da tempo che interessa tutta la Chiesa, non soltanto quella agrigentina ma che negli ultimi anni sembra essersi accentuato. Possiamo soltanto confidare nel Signore e lasciare che operi nel cuore di altri ragazzi, ha affermato Sua Eccellenza Monsignor Damiano. Come sta la Chiesa Agrigentina anche dal punto di vista delle vocazioni? La Chiesa Agrigentina come tutta la Chiesa è nelle mani del Signore che provvede secondo i suoi tempi e secondo le sue misure. In seminario ci sono buoni numeri? Ci sono numeri sufficienti. Adesso siamo in fase di avvio di anno e vediamo con quanti giovani uomini apriremo questo nuovo anno. penso che io una decina ci sono e qualche altro è in procinto di poter avviare questo discernimento perché è un discernimento da farsi poi nel tempo e vedere dove ci porta la storia e la storia ripeto la fa il Signore. Estate Saccense 2023, questa sera nel quartiere di San Leonardo a partire dalle 19 fino alle 21 ritrovarsi festival d'arte contemporanea. Si continuerà a costruire, comunicano gli organizzatori, l'opera di Davide Andrè Girasole che nell'edizione dello scorso anno ha coinvolto di più i visitatori divenendo il simbolo del quartiere. L'appuntamento con ritrovarsi nel quartiere di San Leonardo torna anche domani sera, sempre domani nell'atrio inferiore del palazzo comunale a partire dalle ore 21 la notte bianca in musica a cura dei club service della città. E oggi pomeriggio a Bivona l'inaugurazione della Sagra della Pesca IGP giunta alla 36esima edizione. Il futuro della tradizione della pesca di Bivona è il tema di quest'anno. Nel centro della città ci sarà un percorso fieristico e gastronomico dove sarà possibile degustare negli stand allestiti per l'occasione il frutto per eccellenza del territorio bivonese che ha ormai varcato i confini siciliani. Un fine settimana con tanti ospiti e tanti appuntamenti, tour tra i peschieti, visite guidate di Bivona, percorsi e laboratori artistici per bambini e concorsi di idee per giovani per pensare al futuro della pesca Bivona IGP. E ancora salone del gusto, degustazione della pesca e dei prodotti tipici, mostre ed eventi culturali, percorsi enogastronomici, spettacoli musicali e folk e una buona dose di comicità con i comici come Sassa Salvaggio e Mariuccia Cannata. Tanta gente ieri sera al Teatro del Mare di Menfi per lo spettacolo Chiamatemi Ferdinandea di Salvatore Monte, che si è aperto con gli interventi del regista Saccense e del sindaco Vito Clemente per ricordare, con un momento di raccoglimento, il piccolo Gioele Palminteri, il bimbo menfitano di appena 4 anni scomparso prematuramente. Poi il via allo spettacolo, omaggio alla storia e alla leggenda dell'isola Ferdinandea, nato per essere portato in scena sulla spiaggia di Mucciare Asciacca, ma poi annullato per le note vicende legate alle autorizzazioni e la scelta della compagnia Sipario IV di trasferire tutto a Menfi. Si replica stasera, sempre al Teatro del Mare, con inizio alle 21.15. Vediamo. Musica, recitazione, canto e coreografie sono stati questi gli ingredienti principali del nuovo spettacolo scritto e diretto da Salvatore Monte. Chiamatemi Ferdinandea, la nuova produzione teatrale, omaggio alla storia e alla leggenda dell'isola Ferdinandea apparsa nel mare di Sciacca nel luglio del 1831, ha finalmente debuttato ieri sera all'interno del Teatro del Mare di Menfi. Anche in Chiamatemi Ferdinandea, così come in tutti gli spettacoli firmati da Salvatore Monte, non sono mancati i tradizionali effetti pirotecnici che hanno sostenuto la messa in scena, lasciando il pubblico stupito dalla commistione di effetti che hanno caratterizzato lo spettacolo. Un allestimento in grande stile con una scenografia realizzata appositamente per supportare la trasferta dello spettacolo da Sciacca a Menfi, dopo le note vicende legate alle autorizzazioni che hanno impedito la messa in scena nella spiaggia di Contrada Mucciare a Sciacca. Pubblico presente anche a Menfi che non ha fatto mancare il calore e l'affetto verso l'intera compagnia formata da oltre 70 artisti. Tanti volti storici del Teatro Saccense che si sono avvicennati sul palco, Michele Cirafisi, Elina Salomone, Tiziana Marino, Annalia Misuraca e tanti giovani attori che hanno ancora una volta dimostrato il loro attaccamento al teatro. Calogero Cirafisi, Giovanni Giglio, Gabriele Russotto, Baldo Bono e tante piccole leve a dimostrazione di come nella città di Sciacca rimanga viva la voglia di mettersi in gioco. Ad accompagnare lo spettacolo le coreografie dirette da Calogero Di Mino con la collaborazione di Alessio Turturici. Presente anche il coro diretto da Riccardo Plaia. Lo spettacolo andrà in replica questa sera alle ore 21 e 15. L'intera compagnia, impegnata da oltre due mesi per le diverse fasi di allestimento dello spettacolo, ha ringraziato il pubblico presente che, seppur nella vicina Menfi, ha dimostrato affetto, interesse e curiosità. Il nuovo spettacolo di Salvatore Monte, dedicato alla memoria del poeta Vincenzo Licata, è un ulteriore affresco dedicato alla città di Sciacca e alle sue risorse spesso dimenticate. Con Chiamatemi Ferdinandea si riaccendono le luci sull'isola fantasma che occupa un ruolo di grande rilevanza nella storia della città. La serata si è aperta con un momento di raccoglimento per ricordare il piccolo Gioele Palminteri, il bimbo di Menfi, prematuramente scomparso giovedì scorso. Cultura a Caltabellotta torna dal 24 al 27 agosto il Pace Fest, un'edizione straordinaria con tanti prestigiosi ospiti, magistrati, artisti, scrittori, musicisti, attori e giornalisti. La manifestazione si svolgerà all'interno della storica villa comunale. Vedo, sento, racconto è il tema di questa seconda edizione che vedrà presentazione di libri, talk, mostre fotografiche, documentari, teatro e musica. Ne parliamo in questo servizio. Vedo, sento, racconto è il tema della seconda edizione del Pace Fest che dal 24 al 27 agosto prossimi animerà con presentazioni di libri, talk, mostre fotografiche, documentari, teatro e musica il comune di Caltabellotta. Un'edizione straordinaria patrocinata da Comune, Regione Siciliana e Associazione Siciliana della Stampa con tanti prestigiosi ospiti, magistrati, artisti, scrittori, musicisti, attori e giornalisti. La manifestazione si svolgerà all'interno della storica villa comunale che si affaccia su una valle che, abbracciando sette paesi, da una quota di mille metri arriva fino al mare. Direttore artistico è per il secondo anno il giornalista Gero Tedesco, affiancato dal collega Michele Ruvolo. Il Pace Fest è diventato in poco tempo punto di riferimento di un certo modo di fare cultura e informazione e anche quest'anno Caltabellotta, città dove venne siglata la Pace dei Vespri, accoglierà oltre i prestigiosi ospiti anche tanta gente che l'anno scorso ha affollato il festival. Abbiamo puntato su eventi come il Pace Fest, dice il sindaco Calogero Cattano, perché la nostra città ha una grandissima tradizione di arte e cultura. Il Pace Fest, aggiunge il vice sindaco Biagio Marciante, è una manifestazione che in pochissimo tempo è diventata appunto di riferimento culturale, credo che centri come Caltabellotta debbano puntare su manifestazioni e turismo di qualità. Noi puntiamo su questo tipo di eventi. Il Pace Fest, dice Gero Tedesco, quest'anno tratta argomenti che vanno dal rifiuto del concetto di guerra in ogni sua accezione ai temi della legalità e della lotta per liberare questa terra dal gioco mafioso. Caltabellotta per Antonomasia Città della Pace è una location perfetta per temi così importanti. Quest'anno verrà segnato il premio Pace Fest. A riceverlo sarà il magistrato Leonardo Guarnotta, che insieme a Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello e Paolo Borsellino fece parte dello storico pull antimafia che ha combattuto lo strapotere mafioso in Sicilia. Ad inaugurare il Pace Fest 2023 sarà mercoledì 24 agosto alle 18.45 la mostra Popolo in fuga Sicilia, terra d'accoglienza di Fabio Lobono che racconta della tragica vicenda delle foibe. E proprio per non dimenticare le atrocità della Seconda Guerra Mondiale, sempre mercoledì 24 agosto alle 19 verrà presentato il libro di Calogero Conigliaro I Corsari del Terzo Reich e i Segreti di Aschi, Sicilia 1940-1943. Tra gli ospiti di quest'anno è il magistrato europeo Calogero Geri Ferrara che mercoledì 24 agosto presenterà il suo libro La mafia che canta, che parla del rapporto tra il filone dei neomelodici e i clan mafiosi. Sempre mercoledì 24 agosto Maurizio Ortolanne presenterà il suo libro Io sbirro a Palermo nel quale in prima persona racconta della lotta alla mafia negli anni in cui il capoluogo era preda della guerra tra clanne. Alle 22 l'evento straordinario Disegni di Musica Art & Music Show con il chitarrista Peppe Cammarate e l'artista Sergio Criminisi. Tantissimi ospiti, eventi e presentazioni di libri anche nelle giornate del 25, 26 e 27 agosto. Si intitola Nella magia delle fiabe, il musical diretto da Marco Savatteri che andrà in scena all'interno dell'atrio inferiore del comune di Sciacca giovedì 24 agosto e alle ore 21. Uno spettacolo per bambini e famiglie a organizzarlo insieme al comune di Sciacca e l'Avis. Ne abbiamo parlato con Roberta Mandala, ascoltiamola. Roberta Mandala, questo spettacolo si intitola Nella magia delle fiabe, che andrà in scena il 24 agosto alle 21 all'interno dell'atrio. È un'iniziativa dell'Avis. Ci spieghi perché l'Avis ha assunto questa iniziativa, che peraltro è dedicata ai bambini. Dedicata ai bambini, allora perché? Noi abbracciamo i progetti, quelli che riteniamo più consoni a quella che è proprio la struttura dell'Avis. In questo caso, hai detto bene tu, è dedicata ai bambini. E quindi ci teniamo tanto che le famiglie e i bambini possano partecipare alla visione che sarà proprio il 24 agosto, giovedì, all'atrio comunale. Nella magia delle fiabe, il titolo già la dice lunga, una magia proiettata verso il futuro. Io so bene la storia di questo spettacolo e non voglio rovinare assolutamente alcunché di sorpresa, però veramente invito tutti ad andarlo a vedere. Chi verrà a donare riceverà il biglietto in omaggio. I bambini da 0 a 14 anni non pagheranno l'ingresso, proprio perché il messaggio è chiaro, è dedicato soprattutto a loro e alle loro famiglie. Quindi per cui il biglietto irrisorio, perché ricordo che è soltanto 12 euro, sarebbe per un componente massimo della famiglia, perché se uno dona i bambini non pagano, facendo due calcoli, diciamo che è abbastanza fattibile. Io ricordo che la regia è di Marco Savatteri, lui è bravo ad incantare le platee, ci saranno 15 professionisti sul palco, tra balli, musica, canti, costumi variopinti. Ecco, come non andare a vedere? È anche un'opportunità per le famiglie, per avvicinare i ragazzi a quello che è il fantastico mondo del teatro, allontanarli un po' da quello che sono i social, no? Perché spesso i nostri ragazzi stanno molto... Un po' schiavi. Un po' schiavi del telefono, di quello che sono i video YouTube. Il massimo sarebbe andare al cinema per loro. Ecco, avviciniamoli anche al teatro. Quale migliore occasione? Ecco, e Avis in questa circostanza, diciamo così, ne approfitta per fare sensibilizzazione ancora, per il problema della donazione, perché già ne abbiamo parlato altre volte, sono pochi i donatori oggi, no? Sono pochi i donatori, soprattutto d'estate, e proprio d'estate abbiamo bisogno di più. D'estate accadono tante cose per cui il sangue ci viene richiesto in maniera continua tutti i giorni. Proprio stamattina abbiamo un'emergenza di zero positivo e A negativo rientrata proprio nelle scorse ore. Quindi io faccio un appello a tutti i nostri donatori e a tutti coloro che magari possono cogliere questa occasione proprio per diventare donatori. Venite in Avis, noi ci trovate tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13, la segreteria è aperta per tutte le informazioni, dalle 8 alle 11.30 per le donazioni, sangue, plasma e piastrine. È importantissimo, è un gesto che salva la vita. Sembra subito, 5 minuti della vostra vita cambiano totalmente invece la vita di un'altra persona, che non chiede altro che un po' del vostro tempo. Tra l'altro ci sono patologie che richiedono trasfusioni, quindi voi dovete fornire il sangue, però mi parlavi di emergenza. Parlo di emergenza, allora le patologie... Ci sono due pazienti che hanno avuto problemi. Ci sono praticamente nel periodo estivo, accade che le strade, le nostre strade siano più frequentate, per cui gli incidenti e le necessità sono più frequenti. Ciò significa che occorre il nostro aiuto, al di là di coloro che puntualmente ogni 15 giorni, ricordiamo, fanno le trasfusioni e quelle proprio per sopravvivere. Quindi veramente... Patologie... Patologie che... Che accompagneranno fino alla fine della loro vita. Fino alla fine della loro vita e che grazie a tante persone che effettuano la donazione, quel momento arriverà il più tardi possibile. Ecco, noi facciamo nostro questo appello e però tornando allo spettacolo ti invitiamo a fare... Ti chiediamo di fare l'invito a partecipare. Assolutamente sì. Invito tutti quanti a partecipare a questo spettacolo che si terrà il 24 agosto all'altro inferiore del comune di Sciacca. Quindi il titolo è facile. Nella magia delle fiabe di Marco Savatteri. Adatto a tutte le famiglie, a tutti i bambini, come abbiamo già detto. Venite, venite, venite. Siamo sicuri che vi divertirete. Contiene la storia di Angelo Izzo, uno dei massacratori del Circeo, il libro della giornalista Rai Ilaria Amenta, che sarà presentato questa sera alla Lega Navale di Sciacca nell'ambito della rassegna Libri Sotto le Stelle, organizzata dalla Mondadori Bookstore di Antonella Palazzotto. La giornalista è riuscita a reperire degli appunti di Izzo, all'interno dei quali, oltre a quanto accaduto con le povere Rosaria e Donatella, il criminale si autoattribuisce diversi altri fatti di cronaca nera, di cui si sconoscevano le responsabilità. Un libro molto interessante che, accanto alle responsabilità di Izzo, racconta anche un po' di storia d'Italia, con la lente d'ingrandimento di una narrazione attenta e circostanziata. A conversare con l'autrice sarà il collega Massimo D'Antoni. Adesso la rubrica, il libro del giorno. Daria è la figlia, il cui destino è segnato sin dalla nascita da una mancata di agnosi. Ada è la madre, che sulla soglia dei 50 anni scopre di essersi ammalata. Questa scoperta diventa occasione per lei di rivolgersi direttamente alla figlia e raccontare la loro storia. Tutto passa attraverso i corpi di Ada e Daria. Fatiche quotidiane, rabbia, segreti, ma anche gioia inaspettata e momenti di infinita tenerezza. Le parole attraversano il tempo in un costante intreccio tra passato e presente. Un racconto di straordinaria forza e verità, in cui ogni istante vissuto è offerto al lettore come un dono. Come Daria, di Ada d'Adamo. Edito Elliot. Premio Strega 2023 Calcio è stata presentata ieri sera alla Chiazza, la nuova rosa dell'Unitas. Sciacca, composta ad oggi da 27 calciatori, compresi alcuni giovani della Juniores. Presenti circa 500 tifosi, segno che le aspettative sono alte in vista il prossimo 10 settembre dell'inizio del torneo di eccellenza. Vediamo il servizio. Grande entusiasmo ieri sera nel centro storico di Sciacca per la presentazione ufficiale della nuova rosa dell'Unitas Sciacca, la squadra che parteciperà al prossimo campionato di eccellenza di calcio e che farà il suo esordio stagionale il 27 agosto a Castelvetrano contro la Folgore, nel primo turno della Coppa Italia di categoria. Durante la serata, condotta da Giuseppe Recca, sono stati presentati tutti i calciatori che compongono il nuovo organico, quasi del tutto rinnovato rispetto alla scorsa stagione sportiva, gli organismi societari e l'organizzazione generale, già in piena attività ormai da circa due mesi. Alla manifestazione erano presenti oltre 500 tifosi, segno che l'entusiasmo è tanto, così come le aspettative sportive. Oltre al presidente dell'Unitas Sciacca Pasquale Bentivegna e al tecnico della prima squadra Lillo Bonfatto, sono intervenuti il sindaco Fabio Termine, l'assessore comunale allo sport Valeria Gudotta e l'arciprete della città Don Giuseppe Marciante. Domani la squadra Neroverde, guidata da Lillo Bonfatto, giocherà un'importante testa amichevole contro la San Cataldese, compagine che militerà nel prossimo campionato di Serie D. Dopo l'esorda a Castelvetrano, lo Sciacca giocherà il 3 settembre il ritorno del primo turno di Coppa Italia, per poi esordire in eccellenza con la prima giornata del Girona il prossimo 10 settembre. Questa, ad oggi, è la composizione dell'organico agli ordini di Lillo Bonfatto. Portieri, Luca Amata, Vittorio Cucchiara, Andrea Di Salvo e Andrea Sabella. Difensori, Girolamo Ciancimino, Michele Cinquemani, Dennis Di Mercurio, Giacomo Fricano, Giuseppe Guirreri, Alessio Maniscalco, Dario Morana, Flavio Nuccio ed Emanuele Sabella. Centrocampisti, Luca Camilleri, Piero Concialdi, Mattia Gulino, Charles King, Paolo Miccolis, Moesis Oyuela, Giulio Pecorino e Vincenzo Cocco, che è anche il capitano. Attaccanti, Mario Secanna, Benni Iraci, Pietro Balistreri, Giuseppe Sant'Angelo, Gioacchino Niosi e Davide Graci. Chiude qui questa edizione del nostro giornale. Grazie per la cortesa attenzione e arrivederci. Grazie a tutti.